Amici sportivi, la più cordiale buonasera, appassionati di calcio, tifosi rossoneri, tifosi della Lucchese, perché la Lucchese siete voi, la Lucchese sono anche i protagonisti che scendono in campo e allora vi vado a presentare un protagonista, un ospite graditissimo che è tornato a trovarci, il capitano della Lucchese, Fabio Livoni. Buonasera Fabio, grazie di essere con noi, poi compagno di viaggio fedelissimo, poi dopo ti devo dare una notizia caro Giulio Castagnoli, che sicuramente ti farà piacere, Giulio Castagnoli, Buonasera a tutti, buonasera anche a te Giulio, come andiamo Fabio? Direi bene, dopo 6 vittorie consecutive si sta bene, dopo una doppietta, una traversa, si è andata a controllare che stia ancora tremando la traversa sotto la curva ovest, è la partita bene, facciamo una cosa Matteo, vediamo subito la tabella, quella dove potete mandare, abbiamo già qualcosa, è qualcosa nel senso che ci è stato mandato qualcosa via email, ma naturalmente vogliamo come sempre che partecipiate da casa, come sempre lo farete, siamo convinti, 348 65 597 88 per fare delle domande, delle considerazioni, con Fabio Livoni, c'è Giulio Castagnoli, come sempre dentro tutti i meandri delle vicende tecnico-calcistiche societarie, noi ne sappiamo forse un po' di meno, però anche noi cerchiamo di darvi le nostre opinioni, le nostre risposte, questo è il numero, se volete potete farlo, lo potevate già fare anche prima, ma da ora sicuramente Giulio è qui anche per questo e non solo per questo, vediamo anche un po' i numeri di questa ottava giornata di andata, che così non è passata proprio inosservata in cavalleria, perché ci sono stati dei risultati qua e là abbastanza sorprendenti, Montichiari Formigine 1 a 0, lo vedete con Reggese Riccione 2 a 0, Forcoli Clodiense 0 a 0, Giulio sta controllando se magari abbiamo, controlla Giulio, Forti Siu e Fidenza 0 a 0, Lucchese San Colombano 3 a 1, Massese Palazzolo 1 a 1, Mezzolara Camaiore 2 a 1, Romagna Centro Imolese 5 a 0 e poi Castelfranco Emilia, adesso poi vi spiego perché faccio la specifica, Abano Terme o Terme al Ceccato come volete, 0 a 2, 19 le reti segnate, una sola vittoria esterna, quella dell'Avano Terme, la classifica vede al comando sempre da Correggese con 21 punti, seguita da Abano Terme, Lucchese a 19, Mezzolara 17, Massese 16, Formigine, Forti Siu e Romagna Centro 15, Castelfranco 12, poi c'è uno stacco proprio netto e tutte le altre, fino al Forcoli che ha conquistato finalmente il primo punto stagionale, pensate all'ottava giornata, Fabio su questa classifica che dici? Insomma voglio dire in 6 punti ci sono comunque le prime 8. Sì siamo ancora tutte lì, è presto per guardare la classifica, guardiamo partita dopo partita e la classifica sarà importante guardarla alla fine. Sì però insomma la posizione adesso in questo momento diciamo che vi soddisfa abbastanza, è chiaro che sarebbe meglio essere sempre davanti però anche tu non avete partiti. Sicuramente, sicuramente. Va bene, allora adesso andiamo a vedere appunto le immagini anche di questa. Giulio, domenica prossima c'è la trasferta che non ti mancherai naturalmente. Assolutamente. Assolutamente. Giovedì prossimo ti do subito la notizia. Tanto, allora domenica prossima perché ho detto Castelfranco, specifico Emilia, la squadra che gioca nel girone? Perché in realtà questa notizia la dobbiamo dare subito perché mi pare una delle notizie più interessanti della giornata insieme all'allenamento che la squadra svolta ad Alto Pascio e via dicendo. Domenica la partita tra Termal, ceccato Abano, la squadra di Abano Terme, la Lucchese, non si giocherà ad Abano Terme perché l'impianto dell'Abano non è a norma, manca di fatto il settore ospiti e quindi dove vi mettevano, caro Giulio? E allora si gioca, si era parlato di Est, si era parlato di Rovigo, noi speravamo soprattutto Rovigo che mi pare fosse ancora più vicino. Castelfranco Veneto che invece, lo dico ai tifosi della Lucchese e comunque non vi voglio scoraggiare, anzi vi invito comunque a seguire la squadra, è un po' più a nord rispetto a Abano Terme, vabbè, sono quei 40 km in più che per amore dei colori rossoneri, Giulio, si fanno, no? Quando ne fatti 220, 230, fanno 40 in più cambia poco. Cambia poco. Va bene, invece l'altra notizia, ve la do subito, che così tutta la sera Giulio sarà sorridente e tranquillo, notizia clamorosa ma così giovedì prossimo torna, torna Lorenzo Bertolucci, la condurrà lui, la puntata numero 10 e quindi per una settimana vi lascerò in mani sicuramente molto affidabili come quelle di Lorenzo Bertolucci, è come se dicessi lascio la porta della Lucchese nelle mani di Casapieri, la stessa cosa. Quindi andiamo bene, no? La coppia Bertolucci-Castagnoli. Assolutamente sì, ci avrà da ripassare un po' perché non so a che livello. È un ragazzo che studia. Vabbè, torniamo allora alla partita di domenica, Lucchese-San Colombano 3 a 1, andiamo subito con le immagini. Fabio, è stata la tua giornata in tutti i sensi. Sì, ci tenevamo a fare la sesta vittoria consecutiva, ci siamo riusciti e siamo molto contenti, ora stiamo già pensando a affrontare la partita di domenica nel migliore dei modi perché è molto importante venire via con un risultato positivo. Senti, quanta concentrazione, non voglio usare la parola rabbia, quanta concentrazione, quanta determinazione in te, sapendo poi che stavolta scendevi in campo. Tanto guarda questa, questa è. Eh? Qui il portiere che secondo me non l'aveva proprio vista, eh? Grazie, l'ho sentita. Vabbè, questo invece è il primo gol, eh? Di testa. Quindi segna anche di testa, no? Volendo. Eh? Vabbè, dice, torniamo alla domanda che ti ho fatto, quella lì della, non dico della rabbia, ma insomma c'era credo molta voglia, no? No, sicuramente, sicuramente. C'era voglia soprattutto di aiutare la squadra, come ti ho detto prima, a conquistare la sesta vittoria consecutiva perché era molto importante per noi, per il morale, per la nostra classifica e quindi eravamo tutti vogliosi e determinati di portare a casa una vittoria e ci siamo riusciti. Eh? Anche questo non è male, eh? Anche questo, eh Giulio, non è male. No, aveva voluto riprendere attraverso un'altra volta, fortunatamente che la nuca del portiere ha dato ragione al tiro di Fabio, perché insomma se lo meditava già sulla punizione il gol. Ecco, e qui nell'intervallo, rivediamo dalla sintesi della partita, insomma, la presentazione di tutto il settore giovanile, vi dicono c'era il direttore generale Rosadini, soprattutto con Golante, giustamente perché insomma tanti ragazzi così oltre 250, questo abbiamo visto la scena ormai, ormai Casapieri questa sciarpa non l'abbandona più. Se la porta dietro, dicono anche a casa, è vero? Sei su sei, sei su sei. E questo invece è il gol di Pecchioli, quindi comunque è stata una partita dove Fabio, correggimi se sbaglio, soprattutto nel primo tempo, dopo avete subito fatto il terzo gol, vi siete insomma, avete un po' controllato, soprattutto nel primo tempo forse si è vista la lucchese più bella, ma non dico solo di questo scorcio iniziale, ma da un po' di tempo a questa parte. Sicuramente ci sono riuscite più giocate, più trame di gioco del solito, lavorando settimana dopo settimana in base a quello che vuole il mister, sicuramente miglioriamo sempre di più e domenica si è vista. Eh sì, direi proprio di essere d'accordo Giulio, quando dico, nel primo tempo veramente ci sono queste relazioni molto belle, anche alcune azioni che poi non sono andate a termine, però con fraseggi, con scampi di prima, con i tocchi. Io guarda, sto per dire oneresia, perdonatemi, ma la lucchese secondo me ha giocato la miglior partita della stagione complice all'assenza di Tarantino, e mi spiego, perché se no qualcuno poi pensa che sto dicendo degli sfondoni. Cioè chiaramente quando una squadra c'è un giocatore in campo come Tarantino, alla fine cerca sempre lui, no? Come soluzione offensiva. Sì, è un punto di riferimento. È un punto di riferimento perché comunque sia è un po' il Messi del Barcellona, no? Facendo un paragone, diciamo, passatemi questo paragone. Cos'è successo? Che non avendo come riferimento Tarantino la squadra si è sentita più libera, secondo me, di giocare anche in maniera diversa, per obbligo anche, perché se non c'è non lo trovi, no? Chiaramente Tarantino. Per cui questa assenza, paradossalmente, della quale avevamo tutti una gran paura, alla fine poi si è rivelata, ripeto, fra virgolette, passatemi questa eresia, un'assenza dove nessuno si è accorto di questa assenza, tant'è che la Lucchese è andata in gol tre volte, ha preso una traversa, ha avuto altri due o tre palle e gol per rotondare ulteriormente il bottino. È una cosa importante perché significa che la squadra anche senza un pezzo alla 90 come il Nazareno, riesce comunque ad avere delle soluzioni offensive valide e a vincere le partite. Più liberi senza Tarantino sul piano del gioco. Meno vincolati al... Sì, io sicuramente vorrei sempre averlo disponibile. È bene, quello è chiaro. No, però abbiamo fatto una bella partita e niente, ci prendiamo questa vittoria, ma come ti ho detto un attimo fa, io vorrei sempre che Nazareno fosse disponibile per scendere in campo la domenica. Beh, certamente, adesso non ci sarà neppure domenica a Castelfranco Veneto, Nazareno Tarantino sconta la seconda giornata di squalifica e quindi vedremo un po' quali soluzioni adotterà Pagliuca, ma insomma, grandi linee poi ne parliamo, penso che sia probabile che possano giocare gli 11 di domenica o forse potrebbero esserci un paio di novità che si stanno delineando. Vado io, Giulio? Sì, sì, vai, comunque qualche messaggio c'è già. Vado, vado. Allora, vado con Capello. Tra l'altro devo dire che Capello, Mario Santini da Firenze, è anche un grande fotografo, lo sapevi? No. Allora, lo scatto della Pantera, che sarebbe il concorso fotografico indetto dagli amici di Gazzetta Lucchese, dall'amico Fabrizio Vincenti, si è conclusa oggi, diciamo, quella che possiamo considerare la prima tappa. Non so se poi da qualche parte abbiamo quella foto, se è un grande, ecco qua Matteo Pedini. Allora, questa è la foto che ha vinto questa prima tappa, caro Fabio, scattata da Yuri Zanni, pensate ha vinto con quasi il 45% delle preferenze espresse dai rettori di Gazzetta Lucchese. Al secondo posto però, dopo Yuri Zanni, possiamo dire il nostro Mario Santini, detto Capello, lo conosci, no? Sì, sì, sì. Popolare Capello, con il 17% e quindi Mario e Yuri sono i vincitori di due biglietti per la prossima gara interna, che credo sia quella contro il Fidenza del 3 novembre, no? Sì. Del 3 novembre, quindi insomma, lo facevi fotografo Capello, no? No, diciamo, ha capelli, forse non è, invece ha la grande, poi vabbè, stiamo scherzando Mario, la prima domanda di Mario, sai che Mario, Mario non manda delle mail, manda qualcosa tipo, non so, la traccia di una tesi, non lo so. Vabbè, vabbè, fa tutta la premessa, grande capitano, no? Vabbè, cita anche Angeli come esempio di giocatore, questo devo dire lo fa spesso anche il mister, no? Sì, sì. Quando dice, Angeli, più di te. Un grande esempio, Simone, sicuramente. Eh, più di te. E lo stesso capitano, che è stato fuori qualche partita, sono degli esempi, no? E Mario si accoda un po' a questo, dice sì. E poi ti domanda, dopo cinque partite, qui ti fa la critica, fa una constatazione, forse, giocate in modo blando, insomma, non all'altezza, forse sempre, del miglior Aliboni che ricordiamo, sei cappato in queste due partite in cui non hai giocato, no? E ti domandano, pensi che la rabbia accumulata per esclusioni ti abbia permesso di riflettere facendo scattare in te una molla che ti ha permesso di fare una prestazione superativa sotto tutti gli aspetti? Cioè, ogni tanto, forse, star fuori fa anche bene a ritrovarsi, non lo so. Fabio? Io non penso sia dovuto a quello, io ogni settimana lavoro per scendere in campo con tutta la determinazione e la grinta agonistica che mi contraddistingue, poi sicuramente domenica è stata messa in mostro più la bella prestazione, però ogni settimana ci prepariamo e mi preparo nel migliore dei modi per affrontare le partite come quella di domenica. Può essere poi, magari ne leggiamo uno o due anche di Giulio, può essere che è una stagione che per te comunque è partita un po' ad handicap, perché in pratica hai saltato anche la prima parte della preparazione. Sì, una settimana, venivo da un problema fisico e… Quello può aver inciso, secondo te? Ma io non penso, non penso. Marginalmente? Sì, 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 sì. Sì, ha dovuto al fatto, magari all'inizio, anche la squadra a recepire quello che voleva al mister, ci ha messo un po' di tempo e ora sicuramente siamo più impostati per quello che vuole lui. Può tutti individualmente cominciate a capire meglio. Quello che vuole Pagliuca. Sì, è una lancia in favore di Fabio, il ruolo del mediano centrale in questo modulo qui è uno dei ruoli fondamentali insieme al trequartista, per cui è un ruolo anche difficile, fra le altre cose, dove credo che Fabio fino ad oggi non avesse mai giocato con il centrocampo a tre. È cambiato rispetto allo scorso anno? Sicuramente, no, anche l'anno scorso giocavamo con il centrocampo a tre, però avevamo dei compiti diversi, sicuramente, ogni allenatore sicuramente ha le sue idee e mano a mano che passa il tempo stiamo capendo di più quello che vuole da noi il mister. Vanno recepite, lui penso che comunque si fa sentire, perché credo che in quel senso lì, domenica clamorosamente, forse perché la partita era incanalata, nel secondo tempo è parso, diciamo, relativamente tranquillo, però per il resto è uno che si fa sentire. Urla molto meno, anche perché, giustamente, come dicevate voi, la squadra comincia veramente a prendere forma e a mettere in campo quelle che sono le direttive, per cui quando un allenatore che si impegna e urla al massimo come fa lui, vede che poi la squadra alla fine mette in pratica quello che lui vuole, alla fine la tranquillità viene da sola, i risultati aiutano anche chiaramente a raggiungere questa tranquillità. Mi reggi uno o due e poi andiamo a pubblicità. Sono Shadi il super tifoso, che però non è lo Shadi vero, quello che conosciamo tutti. Abbiamo due versioni. Abbiamo due Shadi, abbiamo due Shadi. Prima cosa saluto Giulio, è il mitico Guido, che è il migliore, altro che Lodovico. Peccato per la cravatta rossa, è un coloraccio. Paolo, i miei complimenti, ma dovete continuare perché va vinto il campionato, mi raccomando. Qui ti ha chiamato Paolo, ma... Fabio, si chiama Fabio. Fabio Paolo Alibogno. Lo capito tutto. Hai un altro nome a proposito alla NADRA, che ne è uno solo. Ci sono molte persone che sai che hanno più. Sì. Tu Giulio? Giulio e basta. Io anche Guido e basta, quindi vabbè. Si raccomanda, questo campionato va vinto in tutti i modi, mi raccomando, dice anche. Queste sei vittorie vi hanno dato, credo, ulteriore convinzione. Sicuramente, sicuramente. Ti portano a lavorare durante la settimana con più serenità e sicuramente proveremo a centrare domenica alla settima. Calare il set è bello, no? Regalare il popolo. È ben importante. Le frasi sono sempre quelle, però un'altra al volo e poi andiamo in pubblicità. Tante cose, questo qui è un messaggio importante che dice, caro Giulio, anche se ti vesti bene, Aliboni è bello come Cristiano Ronaldo. Mamma mia! Salute a tutti, salute a tutti dal direttore, si firma il direttore. Ah, vabbè, quale direttore ce ne sono? Ma ce ne sono tanti di direttore. Non lo so, però purtroppo lui si firma il direttore. In tante squadre di calcio ce ne sono due. In realtà alla Lucchese ce ne sono due. Cioè il direttore generale, Giorgio Rosadini, che noi contiamo poi una sera di avere a Curvo Ovest e magari ogni tanto anche in sala stampa, e un altro direttore, Bruno Russo, che invece abbiamo avuto a Curvo Ovest e che abbiamo spesso anche in sala stampa. E quindi in diverse società, la Lucchese è una società importante, ne abbiamo due. Qui te pensa, poi direttori di qui, di quanti, come facciamo a capire che direttore? Sarà un direttore. Però so, l'acquistamento con Cristiano Ronaldo, lasciando da parte l'aspetto... L'aspetto è una direttrice. No, no, ma voglio dire, insomma, Cristiano Ronaldo che risera purtroppo per i tifosi della Juve ha deciso la partita. Va bene, no, no, perché devo dire che obiettivamente, allora visto che ora sento urlare di una regia, sinceramente al di là di Cristiano Ronaldo, questo Real Madrid non mi ha assolutamente impressionato. E obiettivamente, anche se sapete che non simpatizzo per la Juve, questa Juve ad un certo punto ha giocato anche un pochino meglio dello stesso Real. Eh? Quindi, guarda, sto dando soggio di grande, di grandissima sportività questa sera, no? Ne leggo un altro, anche perché si è perfirmato il direttore. E ancora. E dice, domanda per Giulio, mi sembra che il rientro dalla squalifica di Chianese e il recupero fisico di Aliboni abbiano cambiato il voto della squadra. Allora, è per te la domanda. Sì, no, diciamo che è una delle concause, giustamente, perché sì, Chianese, iniziamo a Caboni, è quello che spacca le difese avversarie, abbiamo visto domenica scorsa i due cosa sono stati capaci di fare. Chiaramente il recupero di Aliboni... Ora, si è creato un po' questo dualismo Aliboni-Losicco, no? No, senti, c'è questo dualismo Aliboni-Losicco? No, 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 nel senso, c'è stato... Siete in quattro, d'altronde, per tre posti, ora, con Tarantino fuori, magari, giocate tutti e quattro. C'è stato chiaramente chi ha detto il dualismo, per via che due domeniche a Fabio è stato fuori, eccetera, eccetera. Però io credo che sia la forza anche di questa squadra qui, no? Quella di avere elementi... Alternative all'attività, eventualmente. Che poi sono elementi di valore entrambi, con caratteristiche completamente diverse, perché con Fabio si guadagna in centimetri, in potenza... Stiamo sforando, aspetta. ...e in gol. Mentre con Loicicco, ma poi rapidità, sono due giocatori completamente diversi. Con uno che ti garantisce, quando c'è del calcio di punizione, dai 30 metri ai 20, ma preferisci che sia sui 30 metri a distanza. Più lontano è meglio. Ti ho visto domenica, non c'è più tutto quasi quasi, ti indivia dal lontano. Sicuramente, perché poi la barriera guadagna metri in avanti e portarla sempre indietro ti può aiutare a tenere i 9 metri. Prima di rinunciare ad uno che ti garantisce, poi vabbè, sul calcio di punizione, abbiamo visto di testa e tutto quanto, è chiaro che Pagliuca, se lo ha tenuto fuori due domeniche, avrà avuto i suoi motivi, no Fabio? Ha fatto le sue scelte, noi siamo a sua disposizione. Naturalmente non si prende mai bene un'escusione, però si accetta, no? Sicuramente. Si accetta. Va bene, andiamo a pubblicità, poi torniamo e ancora insieme a voi abbiamo ancora tante altre cose, vi dobbiamo far vedere, a parte la classifica del campionato, anche un'altra classifica, dove, caro Fabio, bisogna recuperare, non ci sei ancora, ogni tanto noi questa classifica ve la proporremo quest'anno, è quella del famoso calzettino d'argento che lo scorso anno fu vinto da Andro Casapieri, anche lui non c'è e quindi bisogna recuperare, linea alla recente. Grazie. Grazie a tutti.